Tradizione, esperienza, innovazione e tutta la professionalità di ottici qualificati per il tuo benessere visivo. Salmo Iraghi e Viganò ti aiuterà nella scelta del tuo occhiale da vista o da sole dei migliori brand. D&G, Gucci, Armani, Persol, Ray-Ban, Oakley. Centro specializzato lenti progressive, misurazione professionale della vista gratuita, applicazione lenti a contatto. Salmo Iraghi e Viganò di Speraccino Group, a Termini Merese, via Giustino Ferrara 11-13. Prenota online il tuo check-up visivo www.salmoiraghi-viganò.it Fino al 13 gennaio, 30% di sconto sugli occhiali da vista.